Partirà domenica 8 ottobre con il derby contro il Bisonte Firenze la stagione della Savino del Bene Volley, che per il decimo anno consecutivo disputerà il campionato di Serie A1 e che dopo le vittorie di Challenge Cup e Cev Cup segna il ritorno nella massima competizione a livello europeo, la Champions League. Nelle mani di coach Massimo Barbolini, nuovamente confermato sulla panchina di Scandicci, ci sarà una squadra di alto livello con un roster rinnovato dall'innesto di 8 atlete e 6 giocatrici confermate, come l'opposto della Nazionale Italiana e Caterina Antropova e la stella cinese Zhu Ting. Bellissimo campionato, continuano ad arrivare grandissime giocatrici, grandi allenatori, le società investono tanto, sempre di più, per cui i presupposti ci sono assolutamente per vedere livello sempre superiore e quindi vedere partite più belle, vedere partite più equilibrate, non consentire a nessuna squadra di andare a giocare una partita con la consapevolezza di avere già vinto e quindi aumenta la pressione e aumenta la necessità di capire che sarà veramente importante arrivare alla fine nei migliori condizioni perché è alla fine che si decide tutto. Proprio a causa degli impegni con le rispettive nazionali la squadra non è ancora al completo e le prime partite di campionato serviranno per trovare gli automatismi necessari a vincere, obiettivo sottolineato anche dalla neo capitana Enrica Merlo, e affrontare al meglio questa stagione rinca di impegni sul campo italiano e nelle grandi sfide in Europa. Ha un grande valore, dobbiamo trovare un'identità proprio perché dobbiamo partire tutti assieme, quindi partita dopo partita, come dicevo prima durante la presentazione, ci dovremmo vivere in campo, vivere fuori, avremo tanti momenti da condividere soprattutto per curare gli aspetti ormai anche tattici, più che quelli tecnici, perché poi non ci sarà tempo, perché si dovrà poi sperimentare direttamente in campo, ma quello alla fine secondo me porterà grandi risultati perché è il campo che parla. La presentazione della squadra per la stagione 2023-2024 è stata l'occasione per svelare al pubblico le nuove divise da gioco, realizzate anche in questa stagione da RA, blu per le partite in casa, bianche per le trasferte e gialla per il libero, dove al centro campeggia il Giglio Rosso. La Savino del Bene strizza poi l'occhio all'innovazione, la caratteristica di queste nuove divise è un chip che darà accesso a tanti contenuti online per i tifosi, che potranno seguire la squadra anche attraverso questo nuovo ecosistema digitale. Grazie a tutti.